ciao bambini oggi voglio prepararmi con voi la merenda mi aiutate ho deciso di prepararmi i popcorn allora ho tirato fuori una padella antiaderente l'ho messa sul fuoco e ho cominciato a scaldarla poi dentro la padella ci mettiamo i chicchi di mais li sistemiamo bene sul fondo non mi scotto perché la padella non è ancora calda e poi ci mettiamo il coperchio mentre il fuoco continua a scaldare la padella e anche i chicchi il coperchio trasparente così noi possiamo vedere quando i chicchi cominceranno a scoppiare ea diventare quella meraviglia che ci piace tanto e che sono i popcorn ci vuole un po di pazienza però dobbiamo aspettare che la padella si scaldi tanto ogni tanto si può anche fare un po così per muoverli perché altrimenti si bruciacchiano ci vuole qualche minutino sono sicura che i popcorn vi piacciono tanto poi quando sono finiti li metteremo in una bella terrina ci metteremo il sale eccolo qui aspettiamo che si raffreddino un attimo e poi possiamo cominciare a mangiarli intanto guardiamo la nostra padellina per il momento non succede ancora niente diamo un'altra mossa a questi piccoli chicchi poco si sta appannando un pochino al coperchio però si vede lo stesso vediamo vediamo un po quanti minutini ci metteranno a scoppiare questi popcorn lo sapete che i popcorn si possono poi condire con il sale ma anche con lo zucchero diventano buonissimi anche con lo zucchero quando ero piccolina li facevo con il mio papà e il mio papà piacevano di più con lo zucchero perciò ci metteranno lo zucchero poi decidete voi nei vostri popcorn che cosa mettere ce l'avete una padellina piccola o anche grande ma ci vogliono più popcorn poi dipende se li dovete mangiare insieme ai fratellini o alla mamma o al papà facciamo un po così che asciughiamo il coperchio e così ci vediamo un po meglio ecco dai popcorn coraggio vi siete scaldati abbastanza cominciate a scoppiettare per noi attenzione attenzione che forse manca poco aiuto aiuto diamo una controllata succede niente funzionerà questa padellina vediamo 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 un po che sono un po tanti e si devono scaldare bene tutti ok secondo me ci siamo quasi vediamo vediamo dai popcorn abbiamo fame è ora di merenda è che cominciano eccoli 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 1 2 3 ecco eccoli qua tra poco ne avremo una pentolina piena di bellissimi popcorn bianchi dai 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 coraggio coraggio evviva sentiamo il rumore qualcuno salta anche fuori dalla pentola i birichini eccoli eccoli finito eccoli finito 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 no ok forse ora hanno finito togliamo il coperchio li mettiamo dentro e ci mettiamo il sale pochino ecco e poi mescoliamo un po pronti per la merenda buon appetito ciao ciao